Per Helen Leaslow, essere magra, essere magra appunto, era xenonimo di popolarità, di successo, di bellezza. Ha deciso così di smettere di mangiare e bere per essere accettata dai suoi compagni. La ragazza dell'Australia, 19enne, ha rischiato così di morire nel disperato tentativo di rimagrire. E così, Helen è finita in poco tempo, nel vortice di una malattia terribile, nervosa, l'anodossia, risultando perfino che una goccia d'acqua le toccasse le labbra, arrivando a pesare solo 35 kg. Così, dopo una settimana di digiuno forzato, il suo corpo non ce l'ha fatta. Helen è crollata. Una volta ripoverse l'ospedale, i medici si sono stupidi che fosse ancora viva. Le vieta dei piedi e delle mani erano diventate nere e si staccavano con facilità. I capelli lunghi e biondi cadevano a ciò che il cibo mestruale si è interrotto. Un corpo magro in modo eccessivo e baciato, fatto solo di pelle rossa. Volevo essere magra per essere accettato a tutti. Quando iniziato a rimagrire facendo un nuovo rotroto, molti amici. Tutti mi facevano i complimenti. Vi ringrazio per l'ascolto e per la gentile divisione, il video termina qua.